ha segnato? Dario, 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 Cristofalo, 2 a 0 per la Virtus Castelfrentano, 2 a 0 per la Virtus Castelfrentano, i playoff sono ancora più vicini, ecco dall'altra tribuna la gioventù cassellina, fumogeni, 2 a 0, nel primo tempo era terminato 1 a 0 e qua nel secondo tempo il secondo gol.